Solo una settimana fa l'incontro al tavolo regionale con il vicepresidente Lolli ed oggi quello in Confindustria. La questione ICO, che vede a rischio i lavoratori del gigantesco stabilimento ex Kimberly Clark, prosegue la sua marcia verso un accordo che tutela i lavoratori e proprietà. Questa mattina i sindacati hanno presentato le proposte volte ad evitare la mobilità, provando soluzioni diverse alla questione. Ovviamente quello che si cerca di gestire, quelle che possono essere sia sotto l'aspetto di ammortizzatori sociali, sotto l'aspetto che può essere di una riorganizzazione a livello di stabilimento, di azienda, ma anche quello che può essere la possibilità di trovare un eventuale acquisitore esterno. Si cerca di evitare la mobilità comunque? Si cerca di evitare quelle che possono essere le situazioni più gravose per i lavoratori. L'auspicio è quello che si possa andare avanti con un percorso di condivisione sugli ammortizzatori sociali ed è quello che avevamo chiesto al tavolo regionale alla presenza di Lolli e quindi oggi andremo a fare questa verifica anche rispetto alle norme e rispetto a qual è un percorso per poter arrivare a questo traguardo. Il ruolo di Confindustria è quello di un'assistenza tecnica all'azienda e in base a quello che sarà all'esito del tavolo noi daremo i suggerimenti necessari per le operazioni che saranno svolte. È chiaro che è una situazione molto difficile da dover gestire e cercheremo comunque una soluzione che sia la meno impattante possibile.